buongiorno a tutti e ben trovati alla rubrica domanda risponde parliamo di mobilità utilizzazioni e assegnazione provvisorie domanda numero uno se dovessi decidere di non fare domanda di mobilità potrò poi fare la domanda di assegnazione provvisoria nella provincia dove vivono i genitori allora chi non si trova in condizioni di vincolo e dovesse decidere di non fare la domanda di mobilità 2022 2023 potrà decidere tranquillamente di fare domanda di assegnazione provvisoria verso la provincia in cui risiedono i genitori ricordiamo che l'essere soddisfatto nella domanda di assegnazione provvisoria comunque interrompe la continuità del servizio fa perdere il punteggio di continuità se invece si è vincolati e chiaro che non si può fare né la domanda di trasferimento dovuta al vincolo e né si può produrre domanda di assegnazione provvisoria cioè se al momento della domanda di assegnazione provvisoria si è vincolati questo fa decadere la possibilità di fare domanda di assegnazione provvisoria domanda numero due mi trovo nel comune a della provincia x e vorrei fare domanda di mobilità nel comune b della stessa provincia potrò fare in caso di successo del trasferimento utilizzazione sul sostegno se facendo la domanda di mobilità a livello provinciale si verrà soddisfatti quindi in seconda fase su una preferenza sintetica cioè di comune o di distretto nulla osta di avere anche l'opportunità dopo aver ottenuto il trasferimento di chiedere l'utilizzazione sul sostegno per l'anno scolastico 2022 2023 ciò non potrà essere fatto se invece la domanda di trasferimento provinciale viene soddisfatta su codice puntuale in quel caso si è poi bloccati per un triennio non si potrà fare nemmeno l'utilizzazione sul sostegno domanda numero 3 nella domanda di mobilità come faccio a dare precedenza al passaggio di cattedra rispetto al trasferimento sulla classe di concorso di titolarità per fare domanda di mobilità territoriale e sia la domanda di mobilità territoriale sia la domanda di passaggio di cattedra su altra classe di concorso bisogna presentare due istanze differenti nell'istanza riferita al passaggio di cattedra bisogna specificare la classe di concorso dello stesso grado di istruzione di titolarità in cui si vuole passare possono essere anche selezionate più classi di concorso se si hanno abilitazioni per più classi di concorso se si ha una sola abilitazione che è cascata prende più classi di concorso in tale istanza cioè nella domanda di passaggio di cattedra si può dichiarare l'opzione di dare precedenza al passaggio rispetto alla domanda di trasferimento oppure il viceversa se tale opzione di precedenza non venisse selezionata prevale l'istanza di passaggio di cattedra speriamo che queste risposte siano utili ai nostri lettori seguiteci ancora nei nostri canali social youtube e facebook e seguiteci anche nel nostro sito www.tecnica scuola.it perché vi informeremo anche sulla mobilità arrivederci a tutti e grazie